Matide Santinato, centrocampista della primavera dell'Ellas Verona Women. Tu rientri dopo un lungo stop, come è stato questo periodo durante l'infortunio, raccontacelo. Sì, è stato un po' difficile, anche perché vedere le mie compagne allenarsi, io non poter dare il mio supporto alla squadra, ci tenevo ad essere in campo e sono ritornata con il Cesena, dove ho fatto 10 minuti di partita, ho anche quasi segnato, però è stato annullato il gol. C'è il rammarico anche per quel gol, che era stato quasi un urlo di liberazione. Esattamente. È stata dura, ma sei sempre stata vicina alla squadra, una squadra che adesso affronta una partita importante contro l'Inter. Sì, e adesso domenica giochiamo contro l'Inter e daremo tutta la nostra voglia e tutta la nostra carica per vincere la partita.